Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo i Ultra Zombie e se potete vedere dietro ci sono tutti. C'è Zombie, Wolfgang, Braintage, Rocky, McFly, Raybolt, Blue Mood e Jimboon che si illumina al buio e anche Rocky si illumina al buio. Sono consigliati ai bambini di età superiore ai 4 anni, sono prodotti da Sbabamma e se volete usare i social potete taggare loro. Allora noi siamo disposti a collezionarli tutti bambini? Sì! E poi sono da combinare, tre pezzi da combinare, praticamente penso che si tolgono le teste, il corpo e le gambe. Quindi si possono scambiare? Si possono scambiare, sì. Sei pronto Mattia? Apri? Vediamo il tuo Zombie. Quanto è bello! C'ha pure il mantello di Dracula, questo è il conte da Dracula, giralo un po'. Dracula decapitato. Mettici la testa. Dracula tutto intero. Ed eccolo qua. Questo Dracula dice perché mi avete svegliato. All'interno c'è questo volantino che ti dà la descrizione di come si smontano, come si rimontano e sono tutti da collezionare. Dall'altro lato niente c'è la pubblicità. Apriamo l'altra bustina? Sì. Ok. Questo invece è uno zombie. Zombie zombissimo. Ma c'ha il pantalone rotto. Il pantalone consumato sul sedere. Guardate c'è il sedere fuori. E questo si smonta? Lo decapitiamo? Sì. Sì. E anche questo zombie. È lì abbiamo smontati e rimontati inversamente. Abbiamo cambiato la testa e i piedi e sembrano due personaggini diversi. Sono tutti da collezionare oltre che sono otto personaggi diversi. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanellina e... Queste bussine si trovano in edicola o nei migliori negozi di giocattoli e sono favolosi, come tutte le cose che fa Sbabam. Quindi noi non ci arrindiamo, ne prendiamo altri. Come potete vedere la bustina è trasparente, quindi potete scegliere il vostro personaggio. Ragazzi se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, attivate la campanellina. Iscrivetevi e ciao!